I questionari Bandiera Blu 2018 dovranno essere consegnati entro il prossimo 18 dicembre. Questa mattina, infatti, a Roma, presso la Sala Conferenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuto l'incontro tecnico organizzato annualmente dalla FE per distribuire i moduli con cui i comuni riveraschi potranno autocandidarsi per l'ottenimento dell'ambito vessillo. All'appuntamento di oggi tra gli altri erano presenti i comuni di San Giovanni Appiro, Vibonati, Sapri, Centola e Casalvedino. L'incontro è stata l'occasione per ricevere tutte le nuove informazioni sulla procedura operativa per l'assegnazione dell'importante riconoscimento internazionale. Inoltre si è avuta la possibilità di approfondire quali azioni possono e devono essere messe in atto dalle amministrazioni locali anche alla luce delle ultime riunioni istituzionali. I criteri del programma Bandiera Blu vengono infatti aggiornati periodicamente in modo tale da spingere gli enti che vi partecipano ad impegnarsi per risolvere e migliorare nel tempo le problematiche relative alla gestione del territorio. Tuttavia il questionario si compone di consuete sezioni tra queste qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, gestione dei rifiuti, educazione ambientale, turismo e pesca professionale. Lo scorso anno a vedere sventolare il vestillo Fe sui propri lidi furono ben 12 dei 15 comuni della riviera cilentana, Agropoli, Capaccio Pestum, Castellabate, Monte Corice, Pollica, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Centola Palinuro, Vibonati Villammare, Sapri e San Mauro Cilento. La provincia di Salerno quindi con 13 comuni risultò la più premiata della penisola.